Stai lontano voglio mangiare quei Volevo mangiare biscotti in realtà ha creato una tempesta di fulmini che è successo un altro nucleare Cripto ha rinnovato tutto Ok salve totte sono espi giochi e ben tornati in minecraft per un nuovo episodio Di lucky block gigante in compagnia di luca e cripto oggi Affronteremo e lucky block giganti di biscotti Ovviamente non fatevi ingannare dalla dolcezza di questi blocchi perché chi raggiunge venti morti verrà eliminati ovviamente il Sopravvissuto sarà dichiarato vincitore cripto cerca di non morire Uno via e buona fortuna è che vinca il migliore questa volta piano 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 No, no, no non sono sicuramente buoni con me Forza miseria via Ragazzi qui si sta prendo un portale verso chissà cosa stai buono zombie non è un'arma con cui difendermi Biscotti guarda ma alla faccia di buoni sono una cosa più cattiva che abbiamo mai visto Cosa a non riesco a vedere niente sai c'è un'invasione di zombie infocati sul mio blocco non sto trovando nulla Non sto trovando una pozione fulmini Ok ok Fatemi scappare fatemi scappare Allora c'è una una pozione Rulette tipo la roulette russa potrebbe essere buona potrebbe essere cattiva io ne ho una sono morto Ti è piaciuta la pozione roulette si io ne ho un'altra ed è da lancio no aspetta io cosa ho tenuto degli stivali ho tenuto Così alla mia posizione se ho trovato delle cose bellissime non ci credo non ci credo cosa ho tenuto mi sono fatto una full armatura Così non so come normatura fatto di biscotti Che bruciano Oh, no, 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 io ho spaccato un lato che sono finito all'inferno ok Arrivo subito non ti preoccupare è spitto questo lo conosci È il mio portiere Perché è andato a fuoco che mi ha dato fuoco Non lo so Non lo so Non lo so Che succede è stato lui È colpa sua picchialo picchialo È maligno Eh vabbè io non riesco più a vedere niente Eh vabbè gente che succede Ma non è che E mi sa che anche adesso ti Che andrà finire male Una pioggia di biscotti letali Aia Aia Un bel biscottino Oh No che cosa ho rotto un lucky block pieno di lava ma porca miseria Vabbè allora non ti dispiace se sto sul tuo blocco eh Sul mio blocco vabbè stai pure che forse ho trovato qualcosa interessante qui Oh sì sì che ho trovato un'interessante Credo di aver spawnato la pasticcera Come la pasticcera? Arrivo subito Fammi spaccare un altro paio di lucky block e arrivo Arrivo gente Oh Ok Cos'è questa cosa? I suoi pasticcini Così 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 Non spingere verso di me ma porca Lo spingo verso di voi Oh sì 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 Grazie Smettete di tirare le uova Si arrabbia ancora di più Sì Prenditi Luca Prendi Luca Prendi Luca Io sono morto Ma dovresti aiutare E io lo sto aiutando L'unica cosa è che l'unica arma che ho è una zappa Dai Ciò ciò Vieni qua ciccetta vieni qua Vieni qua Vieni qua Prenda fuoco Dai dai la facciamo esplodere Dai che la facciamo esplodere Oh sì TNT A noi Via Falla saltare Non ho fatto niente Troppo potente Un'altra roulette potion Ah porca miseria Guarda che casino Cos'è sa Oh biscotti Cos'erano? Non lo so Erano più quei biscotti Oh adesso li provo ma subito Voglio provare la roulette potion su di te Ops Non ti vogliono fare del male E vabbè Cripto sei invisibile Ah Eh va bene Che cos'è quella cosa? È un pony È un unicorni Sono unicorni No Bellissimo Un unicorni Aspetta 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 Cos'è? Ne do uno a testa Ne do una a testa Oh sì 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 Faccia Faccia Un unicorno 3 2 1 Gli dobbiamo mangiare Ma come? Ok mangiamo Oh Ok Sto volando Salve Battaglia aerea Esatto La battaglia aerea Ah lasciatemi in pace Sto planando verso I lucky block Qui sulla torre Ok Potere scappare Oh ma ce ne sono altri qui Oh no Bello Ciao Ciao Scusa Non volevo colpirti così forte Guarda dove mi hai fatto finire Maledetto Io volevo arrivare lì prima Oh Sto continuando a trovare biscotti stra... Oh No No non colpirmi No la piace di biscotti In ognuna di queste isolette ci sono dei lucky block strafortunati Davvero Dopo voglio assolutamente andarli Ah ma aspetta ma anche qui ci sono un sacco di lucky block Non se sono fortunati o meno però Sto trovando un sacco qui sulla torre Oh Eh spieghi cosa Non sto facendo niente non sto spaccando un sacco di lucky block Salve Oh no Ma come? Oh qualcuno è finito il trappolo Oh porca mi Oh oh che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ti stendo la torta No la torre La torre nooo Cosa sta succedendo? E vabbè Cosa avete fatto? Non lo sappiamo di preciso Buonissimo Era un gelato a tutti i gusti Sto cadendo nel vuoto Si è disintegrato tutto Ma vi rendete conto di quello che abbiamo fatto? Guardate com'è ridotto il nostro mondo È tutto distrutto È la prima volta che distruggiamo così un'arena dei lucky block Ma come è successo? Cosa avete fatto? Ma non lo so Ho spaccato un po' di blocchi lì al centro E poi tutto è collassato Sapevo che potevate creare problemi e allora ho tenuto da parte questo Cos'è? Un oreo Cos'è quella cosa? È un oreo divino Ha poteri sovrannaturali È capace di rigenerare tutto quello che è dolce D'accordo ok Allora teoricamente in un attimo potremo ritornare a visitare la nostra bella isola e continua la nostra sfida Eh sì sperando di sì Auguratemi buona fortuna Non sapeva aver fatto niente Luca Ha funzionato Ha fallito Non ha funzionato manco per niente Oh 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 Ha fatto qualcosa Ha fatto qualcosa Il fuoco si è spento Cosa ha fatto? Ha aspetto il fuoco Ma è soltanto questione di aspettare? Come per il fuoco? Il primo passaggio forse Oh È andato? Ce l'abbiamo fatta? Ha funzionato Ha funzionato Ha funzionato Il resto è un casino tipo i ponti I pasticcini Ma no I pasticcini Però ha funzionato Guarda che fine hanno fatto Anche perché vi ricordate il bastoncino? Uh altri biscotti Vi ricordate il bastoncino quello cattivo dell'altra volta? Eh Cripto te lo ricordi? No Ho trovato qualcosa di molto sì Non ce l'ha non ce l'ha non l'ha trovato ancora Non ci credo Ha ha sei volato giù Non ti ho nemmeno visto perché era invisibile E tu Luca non sei spaventato eh Ah porca miseria Ma questo sei tu Perché si chiama come te? Beh non importa adesso è volato giù Niente c'era un tizio che aveva il tuo stesso nome Cos'è quello? Vuoi star buono Luca che devo assaggiare dei biscotti Non so cosa fanno Potrebbe essere pericolosi Tuoi biscotti? Io ho questi Cookie Essence Non so cosa facciano Oh Ok Forse non avrei dovuto farlo Fai un bel volo Ma porca miseria Ma non riesco a colpirti giù Non riesco a buttarti giù Ma porca Tranquillo che non serve No Ma lo hai detto tu E i tuoi mob che mi hai portato? Cosa sta succedendo? Ok sono completamente a sepolto vivo Cosa sta succedendo? Basta scavare Basta scavare Ok questa sarà la mia tomba E volete vedere cosa ho trovato io Ho trovato un bel boost Per saltare Porca miseria Vieni qua Vieni qua Ho avuto la mia stessa idea Con l'isola si sono rigenerati anche i macchi Oh ti ho preso Cosa? Opsa Mi sa che ho preso Crypto No eh Dov'è finito Luca? Uh Guarda come scappa Cos'è quello? Un enderpearl? No non ho provato a usare l'enderpearl Maledetto Ehm Cos'è successo? Ti ho intercettato l'enderpearl io? Guarda bro Ah Cosa stai provando Non solo che hai intercettato l'enderpearl Per me hai anche ucciso Ahimì Maddonna questa è l'azione migliore di sempre È stato fantastico Ma ora voglio provare su di Crypto Un nuovo pugnale Crypto è un pugnale di legno Non ti preoccupare non ti fa nulla di male Ho da farti assaggiare questa nuova Così Spoon Non ti avvicinare Non ti avvicinare No Ecco subito a fare esploder l'isola No l'isola di nuovo Porca miseria Ah E sono caduto Sai ero appena salito e voi mi fate cadere così Vieni qua Zita fuoco Zita fuoco Oh sì qualcuno è sceso No 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 Oh sì qualcuno vuole dare fuoco Tipo questa Ah Cosa è successo? Biscotti del teletrasporto Ah No dove mi è teletrasportato Prendi qua Oh sì Ti fa male? Oh Qualcuno sarà Ah Porca miseria che knockback incredibile Dove ti evo lo sei andato a finire? Qui Salve Ah Oh sì Salve Ho teletrasportato a me Dove sei Dove sei finito? Solo io non riesco più a saltare E va bene Bufo se qualcuno vi impedisce di farlo Ops Vai via Non provare No 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 Non ho perdetela con me Non ho perdetela con me Ok devo tenere fuori anch'io il mio arco Ho capito Ok Passa Luca col tuo knockback Aiuto io eh Espi a crescere gli aculei Vieni qua 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 Maledetto Sei lontano Voglio mangiare questo Oddio Il diavolo è Volevo mangiare biscotti In realtà ha creato una tempesta di fulmini Però ora mi vendicherò Vieni qua Vieni qua Oh qualcuno è volato giù Stai buono No Porca Oh Aia Scusa Non volevo farlo Non lo uso più Prometto che non lo uso più Promesso Giuri in giurello Non lo uso più Venite qui in cima che ho trovato dei Lucky block molto succulenti Voglio vedere Se sono interessanti o meno Sì 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 Guarda quanta roba Guarda quanta roba bella Ma dove Oh Ci sono un nuovo tipo di biscotti Cosa erano quei cosi Ma le avevo già provati io erano quelli di Thor Anch'io no di nuovo Oddio 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 No Porca miseria me li sono tirati da solo addosso Dei biscotti avvelenati Vieni che ti devo mostrare una cosa Qualche condizioni Che è successo Un'altra nucleare Non ci credo Crypto hai rovinato tutto Ora gente abbiamo fatto un altro casino Ma possiamo rimediare ok Possiamo rimediare Intanto voglio provare a utilizzare questo biscotto Ecco Cosa sta facendo Eh scusa è la colpa mia C'è l'utile Ho più armi Negativi Che cuori Possiamo fare una battaglia aerea Che te ne pare Guarda è tutto rallentatissimo Oddio Ho visto È fantastico Oddio Ah Ok Tornato normale Ecco perché era Il biscotto del Matrix Però ho la nausea Qualcosa non va Non bombardare con i tuoi biscotti Ho anche la nausea Non riesco vedere nulla È caduto No Luca Mettiti questi e vedrai la luce Espi Oh Ma sono bellissimo Guardatemi Ma ma cos'è Sono fantastico Mi aspetta Mi aspetta Non giudicarmi ok Mi stanno benissimo Mi hai diventato una bocca Sbritti la ok Te li restituisco Voi stanno meglio Scegli tra questo Che cosa c'è? Cripto Luca Anzi lo faccio scegliere Luca Perché mi sembra Mi sembra un po' più sveglio Vedo meglio Esatto Allora puoi scegliere tra questo O O Questo Ah quello 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 Prego Vai Luca Eh ma mannaggia Stai fermo Stai fermo Stai fermo Stai fermo E anche io sono intrappolato Qui per sempre Non possiamo saltare Espi C'è tolto il salto Non è quel po' mio Se non avete più la possibilità di saltare A forse sì Cripto Ho un'idea per aiutarti Ok Io non posso togliermi la mia armatura Che ti impedisce di saltare Quindi Ti do Un biscotto per il super salto Vedi Ora puoi saltare Basta Mi sei riconoscente Ora dobbiamo eliminare Luca Vedi che ha 16 morti No Quei coppia Io ho salvato Io No Proviamo con questa No è pericolosa Lo siamo insieme Ecco lo sapevo Moledetto Tradittore Fa tutto così Non volevo Vieni qua Lo volevi benissimo invece Ci sono Ci sono Cosa sta facendo lui Voi toglietti quegli stupidi occhi Che sei ridicolo Mi sono rimboccato Mi sono rimboccato anch'io Vi do una mano io Non preoccupatevi Un biscotto per il salto A te E un Basta Vabbè ma te la stai cercando Noo Basta Condannato Aia 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 E vabbè ma Noo Mi state uccidendo da soli Potete darmi una calmata Mi sto cercando di dare una mano No Luca Mi sto cercando di aiutare Date buone Luca ci stiamo bloccando Ah è morto Piccolo è spi disgraziato Guardate 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 che mi vendico Guardate che Oddio Guardate che mi vendico Fate i bravi Ecco Ecco che ci ha rimesso la pelle Anche tu Crypto ci rimetti la pelle Se non stai attento lo sai per questi Biscotti sono ultra potenti Attenzione non ho paura Di utilizzare questo biscotto Oddio E lui Perché ha sempre gli occhi strani sto qua Vabbè non importa Fate attenzione Perciò Biscotto che potrebbe Potrebbe farvi del male a entrambi Appena è stati in discoteca Smettila Guarda che Mi avete staccato ora Noo Problema risolto Luca hai visto dove è andato? Ma andato che Lasciatemi in pace Sto prendendo i nuovi lach Ma smettetila Espi Eh ma Vabbè ma sempre darti fulmini Guardate che non me ne vado Ok se non ve ne andate subito Se non ve ne andate subito Vi lancio questo biscotto Eh ma io non riesco a saltare Tanto come andiamo via Espi Oh questo vuol dire che siete tutti miei Venite qua Oddio Luca Luca mi ricorda quasi il sogno Che ho fatto Che ho fatto stanotte su Minecraft Ero bloccato in un cubo Ma ti pare il momento di raccontare queste cose Ah ma Crypto quindi ero un incubo Ok basta Basta Mi uccido anch'io insieme a voi BAM Oh ma Espi questa è la sfida finale Decisamente Vieni qua E non so dove ci affrontiamo di preciso Perché la nostra via Un po' quel paese Questa landa devastata e radioattiva Piano Porca miseria no no Qua difficilissimo Metti la Non darmi fuoco Dai 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 Ah no Non può No no Sto cadendo Per far condizioni C'è bisogna andarla a dare anche a Crypto Bravo bravo dai fuoco a Crypto Dai in fuoco a Crypto Dai in fuoco a Crypto la migliore cosa che puoi fare la vita Dove sei? Cosa mi da? Cosa mi da? Oh Ma immune al fuoco quello eh Vieni qua a Crypto boom Oh yes Io sto salendo Crypto Ma come stai salendo? E io ho trovato dei lucky block Oh no Ho spattuto la testa Ma porca miseria sono sceso Addio È difficilissimo combattere così È cattuto tutto giù Crypto Qualcuno ti sta guardando dall'alto Ops Ma aspetta un attimo Ah no Sono caduto Oddio Oddio no Io ho trovato un god jump cookie Oh no Però so io come fermarti Crypto Vuoi divertirti? No E vabbè Eeeh Qualcuno è entrato nel Matrix Crypto dove sei? Io sto scalando Quest'arena mezza distrutta Oh Piano Eh sì Invece sto rompendo i lucky block Davvero? Oh Qualche lucky block ti ho caduto in testa E non è Ah Cos'è che mi ha colpito? Porca miseria Lo so Ha colpito anche me Da lì Vieni qua Vieni qua Potrei spaccare anche io questi lacchi Ma vedo che siete nei coniglietti eh Saltati in giro Ma cosa coniglietti? Stiamo stato affrontato la sfida con... Ah Piuttosto un po' di strategia Spegniti Ok Così E ora Oh No Stai buono Stai buono Oh Si Qualcuno è caduto Vieni qua Fermo Crypto Crypto Non pensi di... Non avere un buon equilibrio Vieni qua Vieni qua No No Ciò Guardalo Guardalo Oh Non mi studerai mai da questo blocco Oh No Maledetto Oh No Di un pelo Stavo per cadere Stavo per cadere da vuoto No Devo recuperare il mio punto di vantaggio Vieni qua maledetto Sono qui sopra Aspetta No Porca miseria Vieni qua Dove sei finito? Dove sei finito? Che cosa è quella cosa? Cos'è quella cosa viola? Io ho un blocchettino per te? È un regalo? Eh Cos'è? Cos'è questa cosa verde? Non lo so È tipo un nuovo tipo di blocco Ok Cos'hai fatto Crypto? Cosa? Cripto Erano nucleare Valedetto Si hai eliminato Certo che ha funzionato Guardalo Espy Guardalo È riuscito a resistere alla nucleare Ma come hai fatto? È inutile che mi colpesci Sono in creativa per guardarti Ma guardate In realtà adesso sto morendo Perché In realtà adesso ti tolgo il black Lucky block sotto i piedi Nooo Che cattiveria Ma ha visto? Eh scusami eh Cioè ho slanciato la nucleare Per battermi nel duello finale Se lo meritava Quindi gente questo Era un altro episodio Del lucky block giganti Dei biscotti In questo caso In compagnia Di luca E cripto E il vincitore Sato cripto Per Diciamo per merito Per fortuna Vi invitiamo Lasciare tantissimi piace Se volete altri video come questo E suggerire altre battute a cripto Da fare le prossime Benissimo Le prossime volte E noi ci vediamo Nella prossima sfida Dei lucky block giganti Ciao 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 Ciao